Salve a tutti il mese scorso abbiamo superato i 1000 iscritti sul canale e volevamo festeggiare facendo una piccola offerta a tempo per i nostri ascoltatori il primo libro del Red Method breve ma intenso manuale per attori di cinema sarà in vendita a metà prezzo su Amazon stessa cosa dicasi per la versione audio del manuale l'audio book e la video master class di primo livello che trovate entrambi sul nostro sito potete averli al 50 per cento sempre inserendo in fase di acquisto il coice sconto TRM1000 poi ricordo a tutti quelli che si iscrivono alla nostra newsletter che riceveranno tutte le offerte che faremo per la formazione dal vivo e per chi volesse avere più informazioni sulla formazione dal vivo il nostro studio scriveteci a info the red method.com idem se avete domande riguardo il metodo o le tecniche o problemi specifici riguardanti gli attori se non volete scrivere mail potete lasciarci un commento qui sotto e rispondere quindi per chi ha voglia buona lettura o ascolto o visione a presto